Diciamo che l'ambizione è già stata soddisfatta, era quella di arrivare qui in consiglio nella massima assise regionale. Adesso c'è da lavorare, c'è da capire bene il contesto e da parte mia cercherò di verificare le condizioni per incidere al meglio in questi cinque anni che saranno decisivi. Io sono convinto che questo consiglio regionale sia un consiglio di altissima qualità, con consiglieri regionali di altissimo profilo. Questo significa responsabilità, aspettative alte e quindi ci sono delle sfide che dobbiamo impegnarci a vincere tutti quanti.